Come sta il Presidente della Repubblica, Noè, ci auguriamo caldamente assieme a tutti gli italiani che egli goda buona, anzi ottima salute, ed attenda con impegno al suo mandato a tirsi, muova il dovere Dio, serbatori politici, ci impone al beneficio dei nostri lettori, uno, uno scandaglio meno formale ed uno sforzo di decifrazione circolano in questi giorni notizie, più un progressivo marino, nell'ottuna deleteriana di leone, quindi Dio, sono il Presidente di ora, l'evento dello Stato Fisi, con i teori non è facile, perché ho pensato a Max Bezzari e mi chiamano di incontrare, c'è un esercizio È un esercizio psicologico difficilissimo, ragazzi, ve lo avevo, vi garantisco. Circolano, 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 circolano. Circolano, in questi giorni notizie, meno confortanti su, progressivo deteriora, mento dello stato fisico del senatore giova, i leoni qui di Dio, con pensieri qui rimane. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS e revisione a cura di QTSS 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.